Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, siamo in diretta con la nostra consueta rassegna stampa di Mattino 6 e oggi sabato 13 aprile vogliamo adesso cominciare a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali anche quelli sportivi che questa mattina troviamo nelle edicole e poi nella seconda parte leggeremo le pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo subito iniziare con il quotidiano Il Centro di Pescara con il titolo di apertura ragazze sfruttate 5 arresti, prendevano in affitto casa in tutta Pescara per far prostituire giovani straniere. Nel taglio alto un'inchiesta in Umbria, inchiesta sanità indagata la Presidente, arrestati segretario e assessore regionale del Partito Democratico. Nel centro pagina vediamo l'anticipo della partita del Pescara che ieri sera ha giocato con il Perugia allo stadio Cornacchia, il Pescara è stato poi raggiunto con un pari nel secondo tempo e era in vantaggio ma nella ripresa il Perugia ha avuto la sua reazione. Negli articoli di Spalla si parla sempre di Pescara, mercatino, feste e proteste per l'inaugurazione, il mercatino etnico del sottopasso di via Ferrari è pronto e domani pomeriggio si svolgerà a Pescara la sua inaugurazione. Sul riguardo al paziente morto all'ospedale di Pescara, l'ospedale dice non ha colpe, è stato stroncato da un arresto cardiaco e un improvviso che neppure il defibrillatore ha potuto evitare. È l'esito dell'autopsia sul sessantenne per il quale la procura è indagato, 5 medici e infermieri. Monte Silvano sigiglia la sede per i profughi, 7 indagati. Nella taglio basso vediamo nei box degli articoli sull'ambiente, una legge popolare per salvare il mondo. Dal centro di Pescara ci spostiamo al quotidiano il centro di Chieti e anche delle zone di Vasto e Lanciano. Titolo di apertura, cartelli invisibili, multe annullate. Chieti una sentenza boccia la segnaletica della zona traffico limitato in centro. Dice la segnaletica è contraddittoria. Negli articoli di spalla di sinistra, rottamazione, cartelle. Si tenta la pace fiscale. Anche Chieti vuole la pace fiscale con la rottamazione delle cartelle. L'assessore Luise valuta l'opportunità, l'eventuale adesione alla definizione agevolata che consentirebbe la regolarizzazione delle ingiunzioni di pagamento dal 2000. Monte Nero Ordomo opportunità di lavoro contro lo spopolamento. Nel taglio basso, vediamo, condannato per l'omicidio del fratello a Cassignol Messer Marino, pena di 10 anni a Tatangelo, fatali sono stati, dice qui l'articolo, i pugni fuori dal bar. E a Vasto mare più pulito sarà, dice, un'estate senza divieti. Dalla provincia di Chieti ci spostiamo a quella dell'Aquila, anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Fondi sisma, sindaco contro governo. L'Aquila e il sindaco Biondi dirottati 65 milioni verso altri territori colpiti da calamità naturali. Nel centro pagina vediamo a Sulmona dove Ugo Pagliai reciterà alcuni brani in latino. San Benedetto, turista USA, violentata, tre condanne. Erano accusati di aver abusato sessualmente dopo una notte a base di alcol una turista italo-americana in vaganza nella Marsica. Per tale motivo sono stati condannati a tre anni di carcere ciascuno. Il silenzio, sempre all'Aquila, per l'addio alla poliziotta e i colleghi in divisa schierati, chissà quante volte lo avranno fatto insieme. Stato ieri si è svolto il funerale della poliziotta e deceduta alcuni giorni fa. Ad Avezzano, invece, rapina da 200 mila euro all'oreficeria, tre uomini e una donna svuotano alla cassaforte della gioielleria Ranaletta. Ci spostiamo adesso sul quotidiano, sempre il centro della provincia di Teramo. Sfollati, no alle case della Regione, l'Assemblea del Comitato Teramo-Est denuncia produrranno disgregazione sociale. Negli articoli di spalla di sinistra, la Coldiretti a Teramo, olio di mezzata, la produzione nel 2019, addio almeno 5 bottiglie su 10 di extravergine. A Roseto, sesso in cambio di droga, rifugiato in manette. I carabinieri hanno documentato più di 400 vendite di droga giovani e giovanissimi. A Teramo, false revisioni, revisione scuola bus. Un indagato, un funzionario comunale è accusato di aver simulato la riparazione dello scuola bus. Dal quotidiano il centro al quotidiano il messaggero della Regione Abruzzo. Smantellata holding del sesso, arrestati due pescaresi che avrebbero gestito una rete di case per la prostituzione. Dall'esquillo si facevano pagare l'affitto anche la pubblicità e c'è stata una maxi inchiesta. Stesso a Roseto, spaccio e molestie, rifugiato in carcere. Nel centro pagina si parla anche qui di cronaca, Vezzano, blizze con le pistole, colpo grosso nella gioielleria. In azione una donna che si ipodizza un bottino di 500 mila euro. Il Pescara, bloccato all'Adriatico uno a uno dal Perugia, un pareggio che non soddisfa. dal messaggero ci spostiamo al quotidiano La Città. Titolo di apertura confermata l'asta per la Team. Mercoledì l'apertura delle buste che darà un nuovo socio privato alla partecipata Teramana. Nel taglio alto a Teramo ecco come sarà la Kona con la nuova cabina Enel. Poi un articolo che ritroveremo anche all'interno del quotidiano. Teramo calcio, armeno più due punte per provare il blitz salvezza a Pordenone. Martinsicuro invece ha arrestato i rome spacciatori e sequestrato alla casa comprata col prestanome. Questo già si parlava la settimana scorsa di questa casa che era stata acquistata a Martinsicuro ma con i controlli della finanza è venuto fuori che praticamente è stata comprata col prestanome. E a Roseto degli Abruzzi una buona notizia è approvato il progetto della sede del 118. Dal quotidiano La Città dai quotidiani regionali ci spostiamo adesso ai quotidiani nazionali. Vogliamo vedere subito la prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera col titolo di apertura. Libia no a prove di forza. La Francia nega di essere stata avvisata da Haftar prima dell'attacco e Conte Gre crea un gabinetto di crisi. Parla la ministra Trent e avvisa Salvini. Dialogo non serve fare i duri. Nel centro pagina vediamo anche quello che è accaduto ieri a Milano. L'agguato per la droga nel centro di Milano ferito il grossista della cocaina stava andando a prendere il figlio. Qui vediamo la foto con la polizia scientifica che sta facendo i rilievi nel centro di Milano. Poi si parla di economia, la battaglia dell'IVA, un piano sui beni di lusso, servono 23 miliardi. Due arresti, indagata la governatrice, si parla della regione Umbria, concorso truccato, inchiesta sul partito democratico Umbro. Dal Corriere della Sera ci spostiamo a Repubblica. Vediamo il titolo di apertura. Arresti a sinistra Perugia, ai domiciliari il segretario del PD Umbro e l'assessore alla salute l'accusa con corsi truccati. Il vicepremier Salvini dice subito le regionali, da Emiliano a Lucano, un'inchiesta dopo l'altra nel campo dell'opposizione e il voto si avvicina. Sugli articoli di spalla di destra, Palazzo Chigi chiama la Merkel al Ftar a Mosca per avere aiuti in merito alla situazione sul conflitto che si sta creando in Libia. L'agguato in centro, Milano torna a sparare nel nome della droga in merito a quello che è successo ieri. Il mattino quotidiano di Napoli, lotta alle mafie con la crisi, l'Italia ha perso gli anticorpi. L'intervista del mattino, il procuratore nazionale antimafia e la criminalità organizzata oggi. Caffiero De Rauco, clan in tutta Italia, più forti dove non devono uccidere, c'è poca voglia di insospettirsi di fronte a grandi disponibilità di capitali. Nel centro pagina vediamo la vicenda, il caos della Libia, Conte gabinetto di crisi, Tripoli contro Haftar e Macron, scontro degli scafisti ai migranti. Abilitati in Romania, 2 mila professori campani ora rieschiano il posto, tutti cancellati dalle gradatorie del Ministero, impronte digitali, presidi contro il Ministro Giulia. Buongiorno. Dal quotidiano il mattino, ci vogliamo spostare al quotidiano il messaggero, quotidiano nazionale, salta la cordata all'Italia a rischio. Si complica il tentativo di salvataggio di ferrovie dello Stato, Atlantia ha detto no all'ingresso nel New Co. Conte convoca un vertice d'urgenza e delta bus a Cina esterno e l'ipotesi l'Aftanza. Nel centro pagina vediamo, anche qui nel messaggero si parla della crisi della Libia, nuovi raid di Haftar mentre la popolazione manifesta contro la Francia. Libia in fiamme e Tripoli accusa il presidente francese. L'Umbria, l'inchiesta sulla sanità travolge il PD e la Regione, assunzioni pilotate negli ospedali e ai domiciliari l'assessore e il segretario dei Democratici, indagata anche Lamarini, Lamarini è il presidente della Regione Umbra. Vediamo la riforma sul lavoro, il mobbing è reato, si rischia il carcere. In arrivo un giro di vite sul mobbing, alla Camera una proposta di legge targata a Movimento 5 Stelle, multe fino a 100 mila Euro e carcere. Il manifesto, vediamo titolo di apertura nel centro pagina, foto anche di apertura, desideri sauditi. Dietro al precipitare del conflitto in Libia spuntano i soldi, decine di milioni di dollari promessi dall'Arabia Saudita a sostegno dell'offensiva di Haftar contro Tripoli. Wall Street Journal svela l'accordo, Parigi respinge l'accusa di ambiguità e Roma invece prepara un gabinetto di crisi. Nel altri articoli, spostandoci sul fatto quotidiano, qui si parla anche qui della crisi della Libia. Haftar mi ha chiesto il via libera, ho risposto no a derive militari, dice il Premier Conte sull'intervista che è stata fatta sul fatto quotidiano sulla Libia e parla anche delle manette agli evasori. Anche il monito di Salvini, la regia della crisi resta a Palazzo Chigi, niente trattative e individuali. E inoltre i 300 soldati italiani restano nella morsa dei due eserciti a Tripoli. Nel taglio basso si parla della vicenda della Regione Umbria retata ai vertici del PD, sistema criminale nella sanità. Tra la massoneria, la curia e la giunta non mi danno tregua, è la Calabria unita. Il dirigente dell'Asra, intercettato, racconta tutte le raccomandazioni ricevute. L'arresto di Assange che è avvenuto in questi giorni e la reazione a catena sulla libera stampa. Vediamo, spostandoci adesso sul quotidiano libero, quotidiano libero, mance ai fannulloni e tasse agli esigobboni la lotta alla povertà, massacra chi lavora, metà busta paga se ne va in imposte, 7 miliardi per stipendiare chi sta a casa sul reddito di cittadinanza. Il governo non abbassa i balzelli e butta. L'Inps fa sapere che non farà controlli, si scopre anche che a evadere di più sono gli extracomunitari. Nel centropagina si parla di alcuni ritratti, alcune notizie nei box, si parla anche di Emilio Fete che questi giorni ha avuto una condanna in via definitiva, la Pivetti che rientra in politica e poi si parla anche di Alberoni che si vuole candidare con Fratelli d'Italia. Dal quotidiano libero al quotidiano il secolo, secolo d'Italia, vergogna Rai, titolo di apertura, i numeri non confermano l'ostracismo contro Giorgia Meloni e oggi parte la conferenza di Fratelli d'Italia in merito alla Rai. Il quotidiano La Verità, altro quotidiano nazionale, quanta paura di Papa Ratzinger, il titolo di apertura. Sappiamo che in questi giorni Papa Ratzinger ha pubblicato un libro contro la pedofilia. I giornali, in particolare quelli cattolici, ci fanno a gara nel nascondere il dirompente testo del pontefice merito sulla lobby omosessuale della Chiesa e c'è perfino chi insinua che non l'abbia scritto lui questo libro. Nel centropagina, anche il quotidiano La Verità, parla il PD Candida, chi lavora per lo straniero, nelle liste di Zingaretti, la collaboratrice di Macron e l'ecchese rappresentante dell'Unione Europea. Dal quotidiano La Verità al quotidiano La Stampa, quotidiano di Torino, la crisi in Libia raggiunge l'Italia, porti riaperti in caso di guerra. I prefetti del Viminale avvisano Salvini, la direttiva anti-migranti rischia di essere congelata. Se ripartono anche, c'è l'allarme nel Mediterraneo in merito alle partenze sui flussi migratori. Nel centropagina si parla di Algeria, la protesta non si ferma, il potere torna al popolo. La resistenza degli erediti buttano il flica, molti giovani in piazza per protestare contro il regime. Umbria, inchiesta sulla sanità che fa tremare il Partito Democratico, la governatrice Marini, indacata, anche l'assessore regionale alla salute, Barberini anche in manette. Agguato a Milano, sei colpi al pusher che riforniva la movita. L'auto era in fila al semaforo, i due sicari lo stavano seguendo. Da un po' i killer lo affiancano e la Focus a bordo di uno scooter. Si parla anche di altre notizie, spostandoci però sul quotidiano romano, il tempo. Le mani, l'articolo di apertura, le mani PD su medici e infermieri, travolto da un'inchiesta del Partito in Umbria, truccava i concorsi pubblici per gli amici. Arrestato il segretario regionale Bocci e l'assessore alla sanità, indacata la governatrice. Nel taglio centrale si parla anche qui che Salvini, in merito alla vicenda dell'Umbria, dice di andare subito al voto. Poi sul futuro allenatore della Roma, la Roma sogna un altro campione, primo contatto con Conte. Poi nei box in basso parla Marra, fai del Movimento 5 Stelle, io in mezzo, mi sono trovato in mezzo a uno scontro, a una guerra tra gruppi dentro, dice il Movimento 5 Stelle. A parlare è Raffaele Marra, ex capo del personale di Roma Capitale e ex braccio destro della sindaca Raggi. Il Papa visita gli ammalati di Alzheimer, visita a sorpresa di Papa Francesco nel centro per malati di Alzheimer, villaggio Emanuele, nella periferia capitolina. Dal quotidiano Il Tempo al quotidiano economico nazionale, il sole 24 ore. Qui giornale economico, manutenzioni nell'edilizia, dice c'è un buco da 8 miliardi. La denuncia di Cresme e Archidetti crollata, la spesa annua del periodo del 2010-2018. Nel centro pagina si parla anche di Mediaset, nodo governance per il polo con Pro Siem Ben Sat. Prende corpo l'ipotesi di questa integrazione tra questi due colossi, che consentirebbe di tornare protagonista in un mercato in evoluzione al gruppo di Mediaset. Poi negli articoli di Spalla, una panoramica a livello nazionale, guerra in Libia, l'Italia costituisce il gabinetto di crisi. Inoltre, sempre nel taglio basso, le grandi banche americane fanno il pieno di utili, trimestrali di Geppi Morgan e Wall Fargo, oltre le attese e Wall Street accelera. Dal quotidiano economico, il sole 24 ore, passiamo al quotidiano avvenire e poi passiamo alle prime pagine sportive. Libia, Parigi spinge e l'Italia si muove. Conte crea un gabinetto di crisi, la Lega, Francia Ambigua, Movimento 5 Stelle irritato contro Salvini. Vediamo anche nel centro pagina, notizia economica, rincariva, Tria ci pensa, non siamo un rischio. Al summit del fondo monetario, forti riserve sui progetti di riforma fiscale. Tria, il ministro dell'economia, dice l'IVA scatta, non è detto, poi replica Moscovici. Non siamo un fattore di rischio globale che devono aumentare l'IVA. Anche qui inchiesta giudiziaria, concorsi in sanità, bufera sul Partito Democratico e i vertici in Umbria. Dal quotidiano avvenire, ci spostiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Corriere dello sport, oggi può festeggiare la Juventus, l'ottava vittoria consecutiva. Oggi con la SPAL, alle ore 15, basta un pareggio per lo scudetto, ma il divario tra la Juve e le rivali sta uccidendo, dice l'articolo, il campionato. Inter, si parla di Inter, nel taglio alto. Spalletti dice, devo tanto, naik glolan, ha gestito i cardi nel modo giusto. Totti e la Roma merita un ruolo importante. Nel taglio basso si parla di Ferrari, agitazione Ferrari, Formula 1 a Shanghai, Vettel, vola nelle libere, ma un nuovo guaio rallenta, Leclerc, alle 8, la Pole, domani mattina alle ore 8.10 la gara in diretta della Formula 1. Dal Corriere dello Sport alla Gazzetta dello Sport, anche qui un titolo di apertura sul scudotto dei, oggi la Juve potrebbe essere campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Allegri a Ferrara, ritrova Quadrato, CR7 riposa, Cheanne di Bala titolari, pronti i Bebi, Coccolo, Nicolussi, Mavidi, Di Cozzi e Castonos. Il Milan alle ore 20.30 ha la sua partita, gara chiave nella volata per quattro posto, c'è Milan-Lazio, la Champions passa da Piatek e Immobile. Vogliamo concludere, prima di fare un break pubblicitario, con tutto sport, Juve-Isola-Felix. Oggi a Ferrara può festeggiare l'ottavo scudetto di fila, martedì andrà a caccia delle semifinali Champions e intanto prepara l'assalto al nuovo fenomeno del Benfica che giovedì ha firmato la sua prima tripetta europea. In taglio alto Milan-Bivio-Champions, gattuto, zero alibi. Con questa ultima notizia vogliamo adesso fermarci per un break pubblicitario. Prima vogliamo però ascoltare e vedere le previsioni medio per quest'oggi e subito dopo ci rivediamo per la seconda parte per leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati, siamo alla seconda parte di Mattino 6, sempre in diretta con la nostra rassegna stampa. Vogliamo adesso iniziare subito con la lettura delle notizie, delle pagine interne dei quotidiani regionali. Iniziamo subito con il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara. Diamo sul commercio, sui prodotti regionali, Roma con un clic. L'Aquila inaugurata al Tecnopolo, la base logistica del gruppo CLS. Dice diamo una vetrina ai produttori locali sul grande mercato della capitale. Ci spostiamo sempre in Abruzzo riguardo la sanità. Alzheimer in regione 15 mila malati, il dato del Centro Studi di Confartigianato reso noto in occasione della giornata nazionale che si svolge oggi a Chieti. Infatti si parla anche di una situazione drammatica, parla il dottor Carlo D'Angelo, presidente proprio dell'Associazione Alzheimer d'Abruzzo, dove dice che servono strutture assistenziali proprio anche oltre per i malati anche per le famiglie. Sempre in Abruzzo una petizione per salvare il mondo lanciata da Avezzano, iniziativa del giurista Ugo Mattei, sui beni pubblici. Ci spostiamo adesso sulla provincia di Pescara che riporta questo titolo anche che c'è stato sull'apertura del giornale. Case a luci rosse in tutta la città smantellata, rete internazionale, la polizia resta 5 persone, altri due sono latitanti. Gli appartamenti erano affittati da due pescaresi, gli appuntamenti delle donne e dei transessuali da sfruttare erano gestiti da un call center in Spagna. A riguardo vogliamo anche vedere un servizio. Pescara era la base per la gestione di diverse case di prostituzione in tutta Italia. L'operazione della polizia di Pescara infatti ha portato in manette 5 persone ritenute parte di un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Di queste 5 persone, 4 sono finite in carcere, mentre una donna colombiana di 37 anni è stata posta ai domiciliari, accusata di aver reperito appartamenti a Genova, poi affittati a prezzi fuori mercato alla prostituta di turno. Due invece le persone attualmente ricercate, di cui una in Spagna, entrambe donne di nazionalità albanese e romena. L'indagine è partita a novembre del 2017 con la segnalazione di un appartamento vicino alla questura, dentro al quale venivano svolti gli appuntamenti hot. La squadra mobile della questura di Pescara, indagando, ha scoperto che la casa era stata affittata da due giovani di Pescara a ragazze straniere, proprio per l'attività di prostituzione. Ogni ragazza pagava dai 400 agli 800 euro a settimana per usare l'appartamento. Il numero di telefono chiamato dai clienti, invece, era di uno call center in Spagna. La donna, di nazionalità albanese ancora latitante, si fingeva prostituta nei vari appartamenti nelle città italiane ed organizzava gli incontri. I due pescaresi, di 28 e 26 anni, invece, avrebbero svolto un ruolo di primo piano nell'organizzazione e figurano tra i cinque arrestati. In manette anche un milanese di 52 anni, che secondo le indagini avrebbe riscosso parte degli incassi, e un 29enne di Lecce, gestore di un'attività ricettiva nel Salento, dove sono state rintracciate alcune delle giovani sfruttate, il quale si occupava della pubblicazione degli annunci per conto delle ragazze. I due pescaresi gestivano appartamenti anche a Roma, Firenze e Milano, oltre a diverse case, circa una decina, nel capoluogo adriatico. Vogliamo adesso cambiare argomento, ci spostiamo sempre però su Pescara, in merito al mercatino etnico che domani la festa, ma il centrodestra protesta alle 17 e 30, corteo anche di politici e commercianti. Sempre su Pescara ci spostiamo su un altro argomento, oggi incontro pubblico uno scolocco, la prima uscita della candidata del centro-sinistra all'Assemblea per essere candidata sindaco alle prossime elezioni. Arresto cardiaco improvviso, così è morto un paziente in ospedale, sappiamo della vicenda che è successa pochi giorni fa, l'autopsia disposta dalla Procura, alleggerisce la posizione dei 5 medici e infermieri indagati. Furno è deceduto durante un esame di gastroenterologia, neppure il defibrillatore è servito a poterlo aiutare a riprendersi. Sulla ASLE, sulla truffa delle ambulanze, dice l'indagine sull'associazione di volontariato l'IFE, l'azienda sanitaria ha deciso che è pronta a chiedere i danni. Si è, dice loro, sono parte offesa. Mense, ancora caos, 60 bambini portano il pranzo da casa, sempre a Pescara. Ieri seconda protesta del comitato guidato da Cretarola e il 23 si annuncia anche una manifestazione da parte dei genitori, sempre su questa vicenda della mensa a Pescara. Mostra Fiore sfida per 213 aziende. Via Florviva, inaugurazione al porto turistico con Marsiglio, oggi seminari, laboratori e recital con i teatranti d'Abruzzo. Vogliamo vedere un servizio per noi. La splendida Kermesse del Marina di Pescara ospita la 43esima edizione di Florviva, Mostra del Fiore, che è diventato davvero un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore. Sì, è una bellissima giornata. Oggi abbiamo l'onore anche di avere il Presidente della Regione, ospite, il taglio del nastro, 43esima edizione. Insomma, si caratterizza sempre di più come un appuntamento importante di tutto il centro-sud per quanto riguarda il settore. Un settore che è in crescita, che coinvolge tanti giovani imprenditori e che produce un indotto assolutamente importante. È un gioiello di primo ordine, il padiglione Beci, vi sono anche altre strutture in altre città, così come stiamo riallacciando rapporti con ente, manifestazioni e fiere un po' in tutto Abruzzo. Crediamo che bisogna fare sistema perché si può in qualche modo avere un calendario unico, regionale, delle manifestazioni con, speriamo, il Fiore all'Occhiello e il Marina di Pescara. Un settore che si afferma, che cresce, che si espande, dove si investe e questa è l'occasione per presentarsi al grande pubblico e per far vedere che in Abruzzo, oltre ai classici settori produttivi agricoli che conosciamo tutti, se ne sta affiancando un altro importantissimo. Cosa vedremo in questi tre giorni qui al Marina di Pescara? Cosa è stato esposto, a cosa viene esposto? Nel padiglione sarà possibile vedere uno spaccato della produzione vivaistica abruzzese, quindi con i vivai che espongono le proprie produzioni e il proprio lavoro. Nella parte esterna invece sarà possibile dedicarsi alla passione per il verde e per le piante che tutti sempre più dimostrano. 213 espositori, tantissimi. Abbiamo riempito di stand e aziende, tutto il Marina di Pescara e Camera di Commercio. Queste aziende per il 50% sono del settore specifico, piante e fiori. Ci sono tantissime aziende anche fuori regione che stanno partecipando e quindi di conseguenza siamo diventati qualcosa di attrattivo. Tutto questo lo dobbiamo anche, bisogna sempre ricordarlo, alla Camera di Commercio di Giti Pescara che è presente, che ci aiuta sia a livello finanziario che a livello di strutture e know-how. Quindi di conseguenza siamo qui. Vogliamo spostarci adesso sulla cronaca di Montesilvano. Inchiesta della Procura, falso e abuso per lo Sprar, 7 indacati, il giudice per le indagini preliminari, sequestra l'immobile di Piatogliatti che ospitava 12 profughi, certificata l'idoneità nonostante gli illeciti, qui vediamo la palazzina con i sigilli e i sequestri. Sempre Montesilvano, nessun golpe, sosterremo De Martinis, De Vincenzi e Tocco confermano la fedeltà alla Lega dopo l'incontro con Maragno, l'attuale sindaco di Montesilvano. Banda in azione, rubati prosciutti e rame, a Tocco di Casauri, a quattro aziende prese di mira, i rami si impossessano di un autocarro con gru e portano via anche un trattore. A Chieti, un articolo che abbiamo trovato anche nella prima pagina sul quotidiano della provincia di Chieti, la sentenza ZTL in centro, cartelli invisibili, annullate le multe, il giudice di pace boccia la segnaletica, è contraddittoria ma il Comune ribatte, regole sempre rispettate. Indagato l'aggressore è tentato omicidio, la vicenda che è successa all'uscita del casello di Lanciano, in comune di Rocca San Giovanni, indagato l'aggressore è tentato omicidio, perquisita la casa dell'uomo che si è scagliato contro il commerciante con una pistola elettrica. Ha provato a strozzarlo, vediamo qui la vicenda che ha creato anche molto panico. Castiglione Messer Marino, pena di dieci anni per l'omicidio del fratello, condannato Domenico Tatangelo all'apice di una lite davanti al bar, gli sferò pugni fatali, poi la caduta e la sua morte. processo sul traffico di droga basso, scattano pene pesanti per 15 persone e 3 assoluzioni, 15 condanne. Questa è la sentenza emessa ieri dal giudice Mario Cervellino al termine del processo, al collaboratore di giustizia Cozzolino, che è stato condannato a 6 anni con lo sconto. A Teramo, allarme di col diretti sull'olio, perse 5 bottiglie su 10, l'associazione avverte in Abruzzo la produzione è scesa del 51% mentre aumentano le frodi, lanciata anche una campagna per le etichette trasparenti, firmano anche Marsiglio, Leuzzi e Dalberto, Dalberto il sindaco del comune di Teramo. Roseto, sesso in cambio di droga, spaccio ai giovani rifugiati senegalese accusato anche di aver palpeggiato alcune ragazze. Documentate 400 vendite di droga. Andiamo avanti, sull'Aquila, fondi sisma, il sindaco Biondi contro il governo, nuova denuncia, sono stati dirottati, dice il sindaco Biondi, 65 milioni verso altri territori colpiti da calamità naturali. Adesso il sindaco, dice qui l'articolo, confida una copertura economica alternativa adeguata al falbisogno e a misure che non portino ad aumentare il carico fiscale dei cittadini. Scusate, ci vogliamo adesso spostare ad Avezzano. Rapina da 200 mila Euro nella gioielleria, tre uomini e una donna svuotano la cassaforte, legato l'Orofo Ranaletta e chiusa in bagno la moglie e due clienti. Turista americana, stuprata, condannati, in tre successo a San Benedetto dei Marzi, nove anni complessivi in appello agli imputati, la vittima fu stordita con l'alcol e ieri è stata emessa la sentenza. Ci vogliamo spostare adesso il quotidiano Il Messaggero. La Giulianova, Roma, tu a rischio conti con la proroga degli attuali servizi, tutti i chilometri extra Abruzzo non potranno essere finanziati, un eventuale buco in bilancio si ritorcerebbe contro i lavoratori. Ti porta qui il comunicato della tua. casa alla prostituzione, due manette, abbiamo anche visto il servizio di quello che è successo a Pescara in merito a questa organizzazione criminale. All'Aquila arrivano i soldi per il Comune ma il Governo sottrae 65 milioni di Euro. Nello schema del decreto sblocca cantieri, ci sono due misure contrastanti per il capoluogo, infatti stanziati 10 milioni e mezzo per il bilancio dell'ente dalla ricostruzione e prelievo per altre calamità. vogliamo spostarci a zona di Capistrello, pioggia di lettere anonime a processo, rinviato a giudizio geometra Fabrizio Lusi, detto il Corvo, errore il terrore dell'intero paese, inviate decine di missive, shock. Una donna è stata perseguitata e molestata per 10 anni, una ragazza minorenne invece ha ricevuto testi volgari e oltraggiosi e poi Avezzano con le pistole colpo grosso in gioielleria. a Chieti tasse sì alla rottamazione e al pagamento in 36 rate. D'ingiullo Forza Italia è un'iniziativa bipartisan, Costantini invece seguita la mia indicazione. L'assessore Luise chiede una relazione al dirigente e nel 2016 nessuna adesione proprio a riguardo. Uccise il fratello dovrà scontare 10 anni e mezzo. Niente derubricazione per il sessantenne Domenico Tatangelo. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero Pecoraro. Niente derubricazione, resta in tatt l'accusa di omicidio preterintenzionale pluriaggravato e in conseguenza di un pugno con cui l'ha colpito. Così ieri è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. La stessa pena chiesta dal Pubblico Ministero a Teramo, Fiera dell'Agricoltura, abbiamo visto anche un servizio, viene anche riportato qui l'articolo dal messaggero, al via col pieno di stand e affari. Inaugurazione con il canto di viola. D'Alberto, il sindaco, importante è la sinergia produttiva, quaresimale, dice valorizziamo le nostre eccellenze abruzzesi. Spaccio e molestie, arrestato rifugiato, senegalese di 30 anni richiedendo asile alloggiato in una struttura sulla costa, ha palpeggiato anche una minorenna, avrebbe ceduto 400 dosi di hashish e maruguana alle ragazze. Spesso diceva, vuoi droga, devi stare con me ed è stato arrestato. Ci spostiamo adesso al quotidiano La Città, prima di passare alle notizie sportive. L'omicidio di Sara all'interno per la Cassazione paduano merita l'ergastolo, annullata la condanna a 30 anni per la guardia giurata, che bruciò l'ex finanzata originaria di Arzita. Infatti ieri pomeriggio ha annullato la Cassazione con un via ad altra sezione delle corte d'assise d'appello di Roma la condanna a 30 anni di reclusione. Gestivano le case della prostituzione anche a Pescara e la squadra mobile del capoluogo Adriatico scopre questo vasto giro che riguardava diverse città in tutta Italia. Teramo ha confermata l'asta per le quote private Team, mercoledì giornata cruciale con l'apertura delle buste. La richiesta di concordato per ora non cambia lo scenario. L'asta per le quote private si svolgerà regolarmente, riporta qui l'articolo la settimana prossima. Ecco il progetto di sistemazione della CONA, nuova cabina Enel interrata dall'altra parte della strada e piazza al posto della Vecchia con un milione e mezzo di euro. Vediamo qui l'aereofotogrammetria dove riporta alcune nuove ubicazioni proprio riguardo al progetto della sistemazione della CONA. Proprio ieri al Parco della Scienza è tornato ad occuparsi della delocalizzazione della cabina primaria Enel dove è stata chiesto di essere spostata. Andiamo avanti. Anche Silvi, il comune di Silvi, è entrata tra i comuni della ciclabile. Ieri mattina a Verona la cerimonia di consegna delle 35 nuove bandiere gialle della FIAB. La FIAB è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta che ormai è giunta alla seconda edizione e comprende ora ben 117 località lungo tutta la penisola e tra i nuovi ingressi, dopo quelli di Alba Adriatica e Martinsicuro, arrivati alla fine dello scorso anno, c'è anche quello del comune di Silvi e qui vediamo nella foto la cerimonia che si è svolta ieri e accertamenti andando avanti a Torricella Sicura sugli aiuti alla famiglia sfollata carabinieri in municipio per un esposto sul contributo accordato dall'amministrazione. Il sindaco dice un gesto di solidarietà umana accordato dai servizi sociali per una donna separata senza lavoro e con due figli. Andiamo avanti a Martinsicuro, sequestrata la casa comprata col prestanome, coppia di rome e di spacciatori credeva di eludere gli accertamenti patrimoniali della guardia di finanza. L'immobile acquistato dal prestanome veniva intestato al figlio della coppia, unico soggetto senza precedenti. Qui vediamo l'immagine degli accertamenti che ha effettuato la guardia di finanza. Chiedeva a Roseto degli Abruzzi sesso in cambio di droga, richiedente asilo aveva organizzato una rete di spaccio tra i giovani. Le richieste, prestazioni sessuali in cambio della droga, palpeggiandole anche nelle parti intime. Ci spostiamo sempre a Roseto, approvato, come abbiamo letto anche nella prima pagina, il progetto per la sede del 118, i lavori della postazione alla Casa Rosa inizieranno dopo le feste di Pasqua, approvato, il progetto esecutivo per gli interventi di ristrutturazione a norma dei locali della Casa Rosa, dove verranno destinati le postazioni del 118. Ci vogliamo adesso spostare, riprendendo il quotidiano Il Centro, sullo sport. Il quotidiano sportivo si parla della Juventus, oggi alle ore 15 a Ferrara, con la SPAL la Juventus. Vara la Juve B, ma per prendersi lo scudetto. Gattuso al Bivio, basta Alibi nel Mirino sulla Lazio, oggi sarà anche la partita Milan-Lazio. Ieri sera allo stadio Cornacchia c'è stata la partita Pescara-Perugia, il Pescara è ripresa, ma è solo pari. Vediamo anche degli aspetti sulla partita, Pilonne due punti persi, Sebastiani invece dice bene così. L'allenatore ottima gara, ci è mancato un po' di cinismo per chiuderla, ma vogliamo vedere il servizio. Pareggio per i Biancazzurri che nella sfida con il Perugia non vanno oltre l'1-1, giocando all'Adriatico buoni 60 minuti di partita prima di subire il ritorno degli Umbri, autori di una buona parte finale di match, chiuso in 10 per l'espulsione di Sgarbi. Uomini quasi contati a centrocampo per Pilonne che manda in campo la sua squadra con il 4-3-3. Brugman recuperato in extremis, gioca al fianco di Memushaio e Bruno, Canute e Crecco sono in panchina in difesa, si rivedono dall'inizio Ciofani e Perrotta in attacco con ferma per Marras, Mancuso e Sottil, Forfè all'ultimo secondo per Monachello che era destinato però alla panchina. Nelle Perugia in campo 3 dei 5 ex Biancazzurri con Verre, Ghiomber e Carraro sul terreno di gioco e Bizzarri e Melchiorri in panchina. La squadra di Nesta risponde con il 4-3-1-2. 5 mila gli spettatori allo stadio Adriatico dove si gioca gli ordini del signor Rapuano di Rimini, avvio equilibrato con i padroni di casa aggressivi ma con il Perugia pericoloso al diciannovesimo con un tiro dai 20 metri di Valerio Verre che manda il pallone poco lontano dai pali della porta difesa da Fiorillo. Al ventesimo la risposta Biancazzurra è affidata a Marras che in area perugina tira debolmente fra le braccia del portiere Gabriel. Partita piuttosto bloccata al ventinovesimo punizione dai 18 metri per i Biancazzurri con il tiro di Brugman ribattuto dalla barriera prima del missile di Memushaio che va a mettere la palla all'incrocio dove il portiere Gabriel non prova neanche ad arrivare. Festeggiano i tifosi Biancazzurri sugli spalti e anche il centrocampista albanese arrivato alla seconda rete della stagione. Il vantaggio regala fiducia agli abruzzesi che si rivedono al 32esimo con una punizione di Marras e la palla in area proprio per il giocatore albanese che è di testa in corna a lato. Gli ospiti provano a reagire ma il Delfino fa buona guardia chiudendo il primo tempo sull'avvantaggio di misura. Nella ripresa Nesta presenta Bianco in campo al posto di un opaco Carraro. Poco dopo tocca Falzerano prendere il posto di Kingsley mentre al dodicesimo c'è una conclusione in area perugina di Ciofani con la deviazione di Gomber in angolo con il rischio di autogol per l'ex pescarese. Il Pescara non si chiude al diciottesimo prima Ciofani e poi Brugman in mezza rovesciata. Sfiorano il gol del 2-0 meglio la squadra di casa al cospetto di un Perugia opaco che però con il passare dei minuti crescerà. La gara resta aperta al ventitresimo su angolo di Falzerano e proprio Ciofani a salvare quasi sulla linea di porta evitando la rete ospite che però arriva poco dopo e precisamente al ventiseiesimo con Vido che di testa mette la palla alle spalle del portiere Fiorillo. Parità all'Adriatico con il Pescara così costretto a ripartire con le due squadre che si allungano e con gli ospiti che sembrano ringalluzziti dal pareggio e con il tecnico Pilon che al trentatresimo effetto è il primo cambio con Crecco al posto di un esausto Brugman con Mancuso ben controllato dai difensori del Perugia. Il Pescara fatica con gli Umbri che invece arrivano ad un passo dal raddoppio al trentasettesimo con Bruno che salva sullo scatenato Vido, passa qualche secondo e arriva il secondo giallo per il perugino Sgarbi con gli ospiti che restano così nei dieci e con Nesta che toglie Verre per mettere in campo un difensore. Arrivano così gli ultimi minuti di gara che vedono gli attacchi sterili e inutili della squadra di Pilon che deve alla fine accontentarsi della divisione della posta e lunedì di Pasqua si andrà in casa del Carpi cercando di recuperare i due punti persi contro la formazione Umbra. Vogliamo adesso passare alla Serie C del Teramo Calcio. Il Teramo spera nei gol di Infantino c'è Persia in dubbi in attacco. Ballottaggio, Sparacello, De Grazia per giocare alle spalle del centravanti a digiuno di reti da un mese e domani il Teramo gioca a Pordenone. Ci spostiamo alle pagine sportive del messaggero, si parla anche qui del Pescara, solo un pari, negli ultimi dieci minuti gli Umbri restano in dieci per l'espulsione di Sgarbi ma il Delfino non riesce a incidere di più. Anche qui il Teramo sicuramente salvo scommette su Infantino. L'ex capitano e bomber Andrea Bucchi studia da possibile dirigente del Diavolo. Ho vissuto momenti, dice, indimenticabili. Si parla anche sul quotidiano il centro del Teramo. Armeno più due punte per provare il Blitz, il Diavolo al Pordenone potrebbe optare per la coppia Infantino-Sparacello è una novità in mezzo. Mentre qui le vicende societarie hanno visto la conclusione definitiva della vicenda che ha riguardato Di Matteo, il Teramo fa le prove generali della cara più complicata della stagione che comunque vadano le cose. La matematica promozione in serie B non potrà festeggiare il Pordenone. Ginnastica è un vero tripudio di Ori a Montesilvano per Lennia, club di Mosciano Sant'Angelo, associazione sportiva assoluta protagonista ai recenti campionati regionali che si sono svolti sabato scorso a Montesilvano. Anche il basket, altre due gare per centrare i play-off. Leto Milu dopo l'impresa nel derby con l'amatori Pescara, la sfida interna contro il Civitanova di Coach Millina. E con quest'ultima notizia vogliamo concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6, quale vi ringraziamo veramente per la vostra attenzione e soprattutto che ci seguite assiduamente tutte le mattine. Mattino 6 riprenderà lunedì mattina lo stesso orario alle ore 8. Vogliamo ricordare la nostra programmazione dei telegiornali che TG6 ci sarà oggi alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23, ma ci sarà anche tutto il resto degli altri giorni della settimana. Grazie di nuovo per averci seguito in diretta e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.